Benvenuti nel mondo Chris Benz La storia di Chris Benz Watch si inizia con la passione di Chris Benz, un giovane uomo che fin da bambino ha sviluppato una grande passione per il mare e gli sport acquatici. Pronipote del fondatore della fabbrica di orologi del Württemberg, Chris Benz ha deciso di unire la sua passione per il mare con la sua esperienza nel campo dell'orologeria, dando vita ad un brand di orologi unico nel suo genere. Gli inizi del marchio Chris Benz risalgono al 2003, quando Chris Benz ha deciso di realizzare un orologio subacqueo che potesse soddisfare le esigenze dei subacquei professionisti e degli appassionati di sport acquatici. Grazie alla sua esperienza diretta nel campo, Chris Benz ha creato un orologio resistente all'acqua fino a mille metri di profondità, dotato di un'ottima leggibilità e di una grande affidabilità. Il marchio Chris Benz Watch si ha acquisito una grande visibilità nel mondo degli sport acquatici, diventando un brand di riferimento per subacquei e appassionati di sport acquatici di tutto il mondo. La collezione Chris Benz Ocean offre una vasta gamma di orologi subacquei e sportivi, dai modelli più semplici a quelli più complessi, come il modello Deep 500M, che può resistere a profondità fino a 500 metri, e il modello Chronograph, che ha una funzione cronografo. Tutti gli orologi Chris Benz sono dotati di una ghiera girevole unidirezionale, una caratteristica essenziale per un orologio subacqueo, e di un vetro zaffiro antigraffio. Oltre alla collezione Ocean, Chris Benz offre anche una collezione di orologi da polso, perfetti per chi cerca un orologio elegante e resistente. La collezione Dressy offre orologi dal design raffinato, con cassa in acciaio inox lucido e cinturino in pelle di alta qualità. La collezione Outdoor, invece, è ideale per chi cerca un orologio resistente per le attività all'aperto, come l'escursionismo o il campeggio. Ma il successo di Chris Benz non è solo dovuto alla qualità dei suoi prodotti. L'azienda si impegna anche a mantenere un forte legame con la comunità degli appassionati di sport acquatici e subacquei, sponsorizzando eventi e atleti in tutto il mondo.